Marino, qual'è il tuo tuo preferito? L'ho detto un'altra volta, te lo ridico, the next three days Quello là... E il mio sei qual'era? Vai, spara La la land! Buonanotte! Se per esempio sto imparando una lingua straniera, non mi serve il palazzo della memoria perché non mi serve ricordare l'ordine di quei vocaboli così come non mi serve ricordare l'ordine dei nomi delle persone non hanno un ordine, ok? Se io devo ricordarmi Dario oppure Marco quindi per tutte queste informazioni è la mia consapevolezza Come... Proviamoci, però De. Molto dark. No, no, perché? No, no, è figo. Ma a me piace. Però allora bisogna fare un discorso diverso. Che potevi spostare tutto. Sì. Però ce la fa, te lo prometto, solo che devo mettere in linea i pensieri. Per forza. Diego, ma che c'è? Cosa c'è ora? Aspetta, sono tutto trippato qui. Tanto mi rispondo e fai la 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 la, quindi non è che c'ho da... Vai, aspetta, tutti pronti, eh? Vai, Diego, dimmi. Dario. Dimmi, dimmi. Senti, io devo portare giù la Mary, ma sai per caso dove cazzo sta la mia tuta gold? Cosa c'è? Cioè, quindi tu non vuoi... Deve pompare nelle casse sempre. Cioè, tu non vuoi soffrire sentendo... Mai. Eh, allora, cioè, hai un problema mentale e stai evitando tutta la gra... Che cazzo stai dicendo? Cristo assassino. In realtà tu hai invitato perché mi sono poi recuperato un po' di tue cose. Mi sembri molto spontaneo, molto genuino, molto solare. Ho detto, lo invito e che secondo me con il nostro mood è perfeato. Io ho detto... Grazie Mamma mia, tutto quello che stiamo lavorando, così tu innamori del modo in cui lo stiamo facendo, anche se ancora non sai di che farlo, mi piace. Sì, però rischia anche di essere confusionario, no? Ah, ecco qua. Ci mancherebbe a minoranza, però tutto veramente assurdo. Non è supercranci? Ah, mannaggia la madonna! Vedrà veramente la lingua di voi, tanto di influenzarci, anche nella vita di giorni, anche nel nostro paesino, nella nostra settimana cittadina. Allora, però mi ricordo che mi hai detto una cosa del tipo che il cattivo non si sa, un po' di te. Questa è stata molto figa. Ah, 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 ah. Non sarà l'italiano, ve lo dico subito, c'è andata molto male. Allora, per forza, solamente per... Non sono questi ultimi, maledità. Eh, no, allora, molto semplicemente, l'inglese e la lingua. Non possiamo proprio vedere, cioè non esce sangue? No, ma poi è il sangue che si porta a vedere perché il sangue è quello organico. Allora! Allora, 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 allora. A me non funziona, ragazzi. Vabbè, ma tu devi avere un attimo più di tolleranza nei miei riguardi. So che cos'è meglio per me. Lo saprò in una piccola percentuale, ma più avanti vado nella mia vita, più avanti, più percentuale acquisirò della mia consapevolezza. Mario, Mario, Mario. Oh, la cassa sta andando. Mario, Mario. English o Spanish? English. No, ho preso lo stato di grasso. A volte fa male. No, non è vero. Non è vero. Hamlink. Pacco dentro al pacco. Ventilatore. Ragazzi, può entrarci un ventilatore qua dentro? Lascialo finire. Ho appena detto. Ho appena detto. Mannaggia la vostra testa. Di cazzo a vostri orecchi. Sorti di merda. Ho appena detto. Magari lo dite dopo. Tre parole. Anche quattro. Magari. Mi stai sul cazzo. Mi stai sul cazzo. Mi stai sul cazzo. Mi stai sul cazzo.